Non spendo una Lira Foundation Guarda, io credo che non spendo una Lira Foundation sia una delle squadre che può venire effettivamente e in particolare mi da molto miedo questa paura e il tocco di seconda di Gattone Ademas, no? Lo conoscimento del perimetro dello zingaro Perimetro E per terzero, ma no, per ultimo E' il velluto di Aya Ea Mi ha dei mani La potenzia prepotente di Mister Elastic Mirano, io non sai come va a terminare tutto il resto Però... Preparatevi Preparatevi Perché non spendo una Lira Foundation Lo sai Mirano E' la cancia, nel campo Minimizzate Don't start bumping till after 12pm Urn Ignorant minds are free I'm if you're tired of the same old everyday you will agree I'm The most obligated heart in all